Andiamo ora in Piazza Vittoria a Bolzano. Da fine 2022 la piazza, lo sappiamo, è orfana della libreria Cappelli. Ora scende in campo la provincia che vuole acquistare lo stabile che era occupato dalla libreria Cappelli e realizzare tra le varie cose alcuni uffici dei centrati che siano a disposizione del quartiere. Sentiamo. Il 31 dicembre 2022 la libreria Cappelli di Piazza Vittoria 41 a Bolzano ha chiuso i battenti insieme alla cartoleria. Uno storico esercizio che ha cessato la sua attività lasciando orfano il capoluogo di una libreria e piazza Vittoria di una delle attività commerciali che più la rendevano viva. Ora la provincia vuole fare qualcosa e si propone di acquistare l'immobile. L'assessore provinciale al patrimonio Massimo Vessone ha infatti portato in giunta una proposta per l'acquisto degli spazi dell'ex libreria con lo scopo di ricavarne uffici di enti pubblici strumentali e offrire così servizi per la cittadinanza. È un peccato che sia stata chiusa questa libreria, ovviamente ci saranno state le ragioni, però questo è un edificio storico, un edificio importante, è un po' il simbolo di Piazza Vittoria. Allora l'Inps l'ha messo in vendita, il prezzo ci pare congruo e noi adesso abbiamo deciso di delegare il segretario della provincia a trattare con l'Inps per poter acquistare eventualmente i locali siti al piano terra o quelli al primo piano o ambe due le cose. Perché? Perché è giusto delocalizzare anche qualche servizio, si presta bene per mettere degli sportelli pubblici per i cittadini e poi anche si dà un po' più vita al quartiere e in più anche si risparmia su quelli che sono gli affitti. Se noi abbiamo dei nostri locali di proprietà ovviamente il costo all'inizio è più alto ma sicuramente dopo pochi anni risparmiamo molto su quello che sono gli affitti. Mi viene poi in mente insomma Piazza della Vittoria e i quartieri limitrofi popolati anche insomma di tante persone anziane che potrebbero avere una netta convenienza ad avere l'ufficio in Piazza Vittoria. Assolutamente sì, ha colto proprio nel fatto questo è il nostro scopo, cioè dobbiamo andare incontro ai cittadini, dobbiamo delocalizzare. Io sono dell'idea che anche qualche ufficio della provincia dovrebbe essere sito a Bolzano Sud perché è molto comodo con il treno, tanti non ci pensano, ma sono sette minuti di treno da Bolzano Centro a Bolzano Sud, perciò tante volte si potrebbe anche agire con quello per evitare il traffico. In base a una stima effettuata dall'Inps l'immobile ha un valore di circa 1.300.000 euro. La ripartizione patrimonio verificherà ora presso i suoi vari enti strumentali e fa bisogno di spazi per poi procedere con una trattativa privata con Inps al fine appunto di acquisire gli spazi dell'ex libreria Cappelli.